Buongiorno a tutti, sono Evita Gardoni, sono il direttore artistico del maestrale Flute Ensemble. Il flauto contralto, o flauto in sol, è uno strumento che abbiamo in organico. Oggi da cavallo in musica proviamo lo Jupiter J.A.F. 1100 e X. Oggi da cavallo in musica proviamo. Oggi da cavallo in musica proviamo.